Buongiorno a tutti, salamu alaikum wa rahmatullah. Gerusalemme è nostra, il titolo di questo bellissimo evento organizzato dalle tre associazioni europee, la conferenza dei palestinesi in Europa, l'associazione dei europei per al-Quds e l'associazione dei palestinesi in Italia. Gerusalemme è nostra, è l'inizio di un evento annuale che si terrà in Italia e in Europa portando questo titolo Gerusalemme è nostra. E' un evento annuale che si svolge a ottobre di ogni anno in Europa per sostenere Gerusalemme e lavorare per la sua causa e per i diritti dei gerusalemitani. Si tratta di un appuntamento dove parleremo e canteremo, organizzeremo dei workshop e presenteremo dei progetti di carattere umanitario, politico e sociale per far emergere tutte le sofferenze dei partiti a causa dell'occupazione coloniale sionista. In questa conferenza noi come organizzatori, compresi tutti voi presenti, deriviamo la nostra resilienza e attaccamento alla terra di Palestina. della resistenza dei palestinesi in patria e dalla loro volontà e determinazione. Il nostro messaggio è che diamo all'amministrazione politica europea e italiana di rispettare i diritti e le convinzioni internazionali riguardanti i diritti dei palestinesi di fare pressione su Israele affinché rispetti tutte le risoluzioni e garantisca i diritti ai cittadini palestinesi nel poter raggiungere i luoghi sacri e nel poter vivere sulla loro terra in pace, di porre fine alle continue aggressioni dei coloni, di fermare i progetti coloniali che minacciano la stabilità sociale e creando la falsa convinzione che Gerusalemme è la capitale di Israele. Noi continuiamo il nostro lavoro per una Gerusalemme, città di pace, della convivenza e capitale della Palestina. I vari modi di cui Israele violi i diritti dei palestinesi, attraverso l'usradicamento e la pulizia etnica nei confronti dei cittadini autoctoni gerosolimitani, attraverso il muro dell'apartheid, attraverso gli arresti, espulsioni e esecuzioni extra giudiziali. Per concludere ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio tutti voi e continueremo il nostro lavoro, la nostra lotta e a nome di tutti voi presenti mandiamo un messaggio caloroso a tutti i palestinesi nei luoghi, a Genin, a Nablus, a Ramallah, a Bethlehem, a Hebron, in tutte le città, alle famiglie di Gerusalemme che resistono nei confronti delle atrocità sionisti per sradicare dalla città la storia, la cultura, la religione, mandiamo un messaggio di solidarietà che noi continueremo il nostro lavoro, il nostro impegno per una Palestina libera, Palestina libera!